Amici, 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 oggi siamo in un nuovo... Oggi proveremo un nuovo gioco, si chiama Panicor, siamo insieme a Marco. Ciao, sono Marco! Ok, tu sei lui. Siamo insieme a Rick. Ehi, chi è Jack? Jack, madonna! Per prima mossa ho visto che dobbiamo tirar giù la macchina. Non state sotto che vi schiaccio. Avete preso tutti gli attrezzi? Sì. Saliamo in macchina e partiamo. Non so nulla della trama, voi nemmeno, perché ve l'ho fatto installare oggi. Se senti qualcosa, nasconditi nell'armadietto. Correre è molto rumoroso. Ok, ci siamo. Fermi, fermi. Già ci sei di te? Zitti. Non fermi. Vieni qua, dove siete, amici? Chi sei? Scappa, scappa. Qua davanti, qua davanti, qua davanti. Chiudi la porta. Chi sei tu? Rick? Sei tu? No. Come no? Sì. Ok, te ti sento, stai buono, stai, stai basso. Quanto laghi. Qua ci dovrebbe essere una sega. Ecco la. Trovata. Shhh, non far casino, non far casino. Seguimi, seguimi, seguimi. Shhh. Giù, 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 giù. So dove andare, seguimi. Corri. Vieni qua. Sulle scale. Corri. Ci segue. Allora, amico mio, amico mio. Ascoltami bene. Dobbiamo trovare gli altri due. Dove sono finiti? Non è che sono già morti. Che casino fa questo attrezzo. Allora, allora, vedi l'audio? Tu non devi mai arrivare al rosso. Ok? Ok. Ok, se no ci sente. Siamo morti. Jack. Jack. No. Shhh, shhh. Dove sono? Questa si apre. Si è aperta. Entra, entra e chiudi. Sì. Sì. Rick. Ci sei? Sì. Sì. Entriamo nella stanza. Oh, volta. Shhh. Oh, ma di chi è questo busto? No. Un medikit. Ma che serve un medikit? Per restarci, possiamo restarci. Aiuto, aiuto. Entra qua dentro, entra qua dentro. No. Sì, 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 sì. Ragazzi, no. No. Oh, ho trovato una sega. Anche noi. Oddio, chi sto vedendo? Chi sta camminando con una torcia? Giù per le scale. Oh mio Dio. Restartemi. Dobbiamo trovare un medikit. Ce l'ho, ce l'ho io. Scappa, scappa. Scappa, scappa. Scappa, Rick. Mi sentite? Non mi sentono. Eccomi. Sono qua, sono qua, sono qua. Lo so, lo so che sei qui. Ah, mi sentite quindi? Sì, ti sentiamo, sì. Ok. Vai, 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 curalo con il medikit. Non ce l'ho. Ce l'avevo io, ce l'avevo io. Luttatemi. Mi può sentire solo chi è vicino a me. Ragazzi. Sì? Ragazzi, dove c'è? Non lo so. È morto. È morto. Allora, trovate un medikit. Sono vivo. Accogli la sega. Guarda, è tutto per terra. C'è il medikit. Prendo il medikit. Andiamo a prendere il check. Mi posso adesso check. Non fate casino. Allora, vi spiego cosa dobbiamo fare. Dobbiamo trovare dei pezzi per poter uscire. Ci mancano tre travi. Ok. Non parla. Su, su. Entra nel bagno. Nasconditi. No, aspetta, fammi entrare. Perché? Sei tu? Sì. Ok. Allora, vedi, sotto di noi c'è il cavale. Devi check? Sì. Ok, dobbiamo andare da lui. Dobbiamo trovare tre travi per poter uscire da qua. Entra. No, ma no. Vieni da un pozzino. Scappa. Mia. Via. Scappate. Vado da check. Check, ti vengo a restare. No, siete tutti morti. Io sono qui per terra. Mi dispiace. Oh, c'è il medikit. Hai trovato il medikit. Tu sei un genio. Grazie a rock, grazie a rock. Ah, eri te, eri te, check. Ok. Andiamo piano, piano, piano. Pianissimo. Cos'è qua? Una trave? Oh, ho anche il medikit, sì. Andiamo a restare da Rick. Andate da Rick. Dobbiamo trovare un'altra trave. Perfetto. Seguo la trave. Ok. Sto segando la trave. No, facciamo casino segandola. Tre travi. Tu vai. No, devo secare tre assi. Ok. Check, vai fuori dalla porta e dimmi se c'è qualcuno. Ok. Per ora niente, per ora niente. Manca una trave. E la corda? La corda ce l'ha, Marco. Ok, ok. Cerchiamo un'altra trave. Mostro, mostro. Zitto, 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 zitto. Porca puttana! Dove siete? Siamo al piano di sopra, mi affetto una porta. Cazzo! Ah! Ma... Ah no, da verco... Dove... Zitto. Senti Riccardo, senti Riccardo! Zitto, zitto. Zitto. Un bagno! No! Avevi un medikit! E non ti possiamo sentire da morto. E... Potrò trovare l'ultima trave e siamo salvi. Trovata! Trovata! Vai giù, segala! Chi è con la torcia davanti? Io, io. Ok. Mettete la trave veloce, mettila. Ok, messa, messa. Fermi, arriva, arriva. Ssh, shh, shh. Giù, 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 giù. Un bagno di giro del tavolo se viene. Ok, andiamo e scappiamo di sopra. C***o, la mia! Ssh, altro. Senti. Dio, usa la corda. Eccola. Chi ha la scala di voi? Chi l'ha presa? Ok. Ci servono chiavi. C***o, è morto. Noi dobbiamo apri... Vedi questa? Marco. Vedi, queste sono le porte d'emergenza. Dobbiamo aprire questa e usare la scala! Vedi, stavate! No, sono morto. No! Ah, è morto. Aiuto. L'avevo trovata la chiave e avevo portato la porta d'emergenza. Sì, l'avevo trovata. Adesso non mi ricordo bene. È nella classe al piano di sotto. Ok. Siete pronti? Speedrun. Vai! Dove siete? Chi c***o sei? Chi sei? Parla. Ma vaffanculo vai, cretino. Hai la chiave? Ho una chiave, Ubi. Ok, vieni. Ti dico dove usare la chiave. Siete sopra? Sì. Arrivo. Eccoti. Ecco. Aprila, aprila. No, no. Ok, sì, anche questa è l'emergenza. Perfetto. Prato. Perfetto. Siamo fuori. Ci serve la scala. Cosa c'è qua sopra? Scala. Ah, una scala. Tentete l'altro pezzo. Mettete la corta. Mettete la corta. Eccola. Ah, ecco fatto. Ok. Una scala. Ok. Fermi, fermi. Ssh. Ottene via, mostrosità. Ssh, shh, shh. Dobbiamo tornare su. Non è qua. Pronti. Dobbiamo correre. Ci siete? No. Corri. Correte. Le altre, le altre, le altre, le altre. Vai, 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 vai. Ok, aprite. Non è questa, non è questa. L'altra, l'altra, questa. Vai, 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 vai. Chiudetevela dietro. Buga, come si esce? Silenzio, silenzio, silenzio. Ssh, shh. Ma manca Riccardo. Ah no, c'è. Tu dove stai? Ssh, secondi. Wow. Cinque. For again, for again, for again. Sì. Sì. Ma sono morto. Ma io sto aspettando. Come si fa? La scala. Non è, non c'è più. Dove è una scala completa, raga? Che ne so io? Era lì, ho taggato il muro. Marco, Marco. Uno si deve sacrificare, Rockets. Mi sacrifico io. Vieni a prendermi. Dove sei? Urla. No, come try again? GG. Oh, mi è partita una cutscene. No. Te lo spiego in breve, te lo spiego in breve. Oh, ce l'abbiamo fatta comunque. Nella cutscene ci siamo noi che entriamo in un tunnel. E allora a un certo punto la visuale si gira il verso lì indietro e il mostro ci risucchia. Basta. No? Bene amici, se volete un secondo episodio con un'altra mappa, lasciate un mi piace e commentate. E entrate nel gruppo Telegram così riusciremo a parlare molto più facilmente. Oddio, sono finito. Madonna. Io sto guardando la bocca di Rick. Ah, lì sopra. Sì. E noi ci vediamo, se vorrete voi, in un secondo episodio. Ciao a tutti e saluto i miei amici. Ciao. Salve ragazzi, io vi odio. Sì, vabbè. Ragazzi, ma se faccio così? Madonna, che casen. Ciao.